16 ottobre 2014 per una nuova puntata di Runners, Atletica e Podismo in Toscana. Buonasera agli amici che ci seguono da casa come sempre tutti i giovedì e poi sul canale internet runners.it dal giorno successivo e poi anche coloro che ci seguiranno la domenica nel nostro speciale Runners e Benessere. Vi aggiorneremo più tardi poi su quelle che sono le coordinate che andremo a seguire poi nei prossimi giorni. Cominciamo subito con le immagini, stasera andremo a presentare in modo particolare due manifestazioni, una che si è svolta a Quarrata, la passeggiata panoramica è una grande classica e assigna anche questa una classica ormai con tante edizioni alle spalle, la mezza maratona. Le immagini che ci portano realizzate da Isolina Mazzoni ci portano a Quarrata proprio per l'inizio di questa manifestazione. 39 edizioni quindi ormai diventata in attesa proprio del conto pari delle 40. Cominciamo subito, questa sono la gara, la manifestazione dedicata ai bambini, cominciamo subito a intervistare i nostri ospiti e Walter Pacini ci darà le prime coordinate. Walter buonasera. Buonasera a tutti, si dicevi bene Stefano ormai è una classica, una classica di fine settembre, una gara diciamo amata da tutti, amata dagli agonisti e amata dai camminatori, una gara a cui anche quest'anno hanno partecipato circa 1500 atleti, suddivisi in 500 agonisti e 1000 non agonisti. Una gara che piace, piace perché piace a chi piace fare gara perché ci sono più di 200 premiati, perché il percorso è bello, impegnativo, muscolare, è una gara che piace ai camminatori, che si possono per una domenica godere tutte quelle che sono le bellezze del Montalbano con tutti i suoi scorsici panoramici sulla pianura. Niente, anche quest'anno il tempo ci ha voluto molto bene, è stata una gran bella giornata di sole e il pubblico e gli atleti hanno risposto perfettamente. Anche i bambini, vediamo qui, hanno risposto, abbiamo avuto circa 90 bambini, non è poco, la domenica mattina è difficile portare 90 bambini. Comunque in collaborazione con le scuole siamo riusciti a coinvolgere sia gli studenti della zona e la risposta è stata notevole. Eh sì, li vediamo le immagini dei bambini, tra poco vedremo invece la partenza dei più grandi, approfitto subito per coinvolgere, eccola qua, la partenza nella grande via Montalbano a Quarrata, proprio in zona Mubilificio Fattori, come ormai da 39 anni siamo abituati a vedere questa manifestazione. Coinvolgo subito, patrocinio della manifestazione, il comune di Quarrata, coinvolgo l'assessore Riccardo Musumeci, assessore allo sport, che è come sempre il comune di Quarrata attento a dare lustro alle proprie manifestazioni e sicuramente una manifestazione come questa, vedete le immagini di partenza, non è da sottovalutare. Assessore, buonasera. Buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori. Io porto il saluto dell'amministrazione, mio e del sindaco e ricordo, essendo arrivati alla 39esima edizione, sicuramente per la nostra città e per il nostro territorio, è una manifestazione importantissima e l'amministrazione, come tutti gli anni, patrocina perché sicuramente, anzi vorrei dire specialmente in questo periodo, con i problemi sociali e economici ci sono, vedere tanta gente in piazza scorrere sulle nostre colline, ammirare il paesaggio di Quarrata e passare questa domenica mattina insieme sicuramente è un momento di svago, è un momento di aggregazione che per un po' di tempo, per qualche ora, fa dimenticare anche quelli che sono i problemi che viviamo tutti i giorni. La manifestazione è bellissima, il tempo anche quest'anno è stato sicuramente, ci ha aiutato in maniera notevole perché è stata una bellissima mattinata di sole, come ricordavate anche la partecipazione dei bambini e la partecipazione anche di tutta la città, che ho partecipato anch'io non come nella gara sicuramente quella agonistica, ma come camminatore ho partecipato alla gara e quindi bellissima giornata veramente. Ringrazio ancora la podistica Fattori per l'organizzazione di questa bellissima manifestazione. Saluto intanto l'amico Roberto Ria che si è cimentato in questa manifestazione in tutta, con questi mega occhiali, l'avete visto nelle immagini di partenza e quindi un po' di il polcore non guasta. Passiamo il microfono invece anche alla parte organizzativa, Giacomo Gliadevaia, ormai ci hai abituato a tante manifestazioni su delle lunghe distanze, questa qui mi immagino non l'hai corsa. No, questa siamo dovuti stare come servizio, io fortunatamente erano le premiazioni, ho visto tanta gente soddisfatta del percorso, dei premi e sono gratificato da questa cosa perché organizzare le corse, la gente ti fa complimenti, insomma è una bella cosa. Hai visto le immagini in partenza con questo fiume, 1500 podisti che partivano, che effetto ti fa vedere? Volevi esserci? Sì, sicuramente sì, però anche vedere gli altri correre qualche volta fa bene. Eh sì, e soprattutto organizzare. Sì, c'è tanta gente così, certo, certo. Dietro di te Gianni Antoni, un altro dei podisti che ormai vediamo, anche lui porta la maglia della podistica Fattori, anche lui impegnato nell'organizzazione. Sì, senz'altro, buonasera a tutti. Altra splendida giornata, altra splendida occasione che ci troviamo sempre a commentare diciamo con estremo piacere. Il piacere più grande però forse, e qui volevo appunto soffermarmi su una cosa, è quello di vedere i riscontri proprio da parte della gente. Perché? Perché noi magari evidentemente siamo di parte, quindi siamo portati magari a enfatizzare e magari a volte possiamo anche scendere anche nell'ovvietà. Però la grande soddisfazione è quella di vedere la risposta delle persone, ovvero siamo al ristoro e ci sono le persone che ti fanno i complimenti sulla qualità e sui prodotti e sulla quantità del ristoro. Andiamo alla premiazione, a dare premi, che eravamo con Giacomo appunto, e i podisti che venivano a ritirare i premi ci facevano i complimenti per la gara, per la bellezza del percorso e per l'organizzazione. Questa credo sia la più grossa soddisfazione per me, in quanto atleta, in quanto tesserato della società, ma anche per la società medesima, per la dirigenza e anche, mi permetto di dirlo, per quelle persone che magari stanno un po' più dietro le quinte, ma che danno un contributo determinante alla riuscita di questa manifestazione. Grazie Gianni, qui vediamo le immagini, come avete visto dal cartello, siamo nella zona di Montorio, quindi sulle colline del Montalbano, qui è un passaggio, ritorno invece con Walter, visto che c'è una marea di appunti, lì sicuramente avrà tante cose da dirci. Walter, da dove ricominciamo? Non so, da dove vogliamo prima cominciare, cominciamo dai ristori, diciamo che quest'anno sul percorso lungo c'erano quattro ristori più un mega ristoro all'arrivo, se vogliamo dare un pochino di numeri, 170 kg di uva consumata, 40 kg di tortellini forniti, enormi vassoi di pizza smerciati a tutti, panini, chi più ne ha più ne metta. Poi cosa vogliamo dire? Vogliamo parlare, vogliamo, io vorrei ringraziare un po' di persone, vorrei ringraziare l'Orienta al Caffè, uno dei nostri sponsor principali, che ha fornito il caffè a tutti prima e dopo la gara, vorrei ringraziare la Croce Rossa di Quarrata, che anche quest'anno ci ha dato un enorme contributo. Vorrei ringraziare Gabriella e Chiara, due massaggiatrici che si sono intrattenute fino a mezzogiorno a massaggiare gli atleti all'arrivo. Poi che altro dire? Ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, perché sinceramente sono stati veramente tanti e ci hanno ripagato tutto lo sforzo che abbiamo fatto per organizzare anche quest'anno la manifestazione. Assessore, siamo qui in una zona veramente particolare di Quarrata, Villa La Magia, che da quest'anno è patrimonio dell'UNESCO. Un modo per correre anche all'interno dei patrimoni pubblici e poi mi viene da dire che in questa manifestazione i Quarratini si svegliano proprio tutti volenterosi e tanti per andare. Oggi c'è la corsa del fattore, lo dico anche un po' da Quarratino che sono io e quindi mi sento un po' parte in causa. Che ne dice l'assessore? Che sicuramente la città è coinvolta tutta e lo viviamo già nelle settimane precedenti, sicuramente questo coinvolgimento e questo modo di vivere e partecipare alla corsa, come viene detto a Quarrata, alla corsa della Fattori. Perché già nelle settimane precedenti si sente parlare e si sente montare questa voglia. Il fatto di passare da Villa La Magia, che diciamo è stato patrimonio dell'umanità, è comunque una cosa significativa anche perché io non sono, come ho detto prima, un podista, ma sono una persona che va a camminare e cerca di tenersi un pochino in forma. E il parco di Villa La Magia sicuramente, che tutti i Quarratini possono utilizzare e non solo i Quarratini, è un luogo dove si può praticare sport, dove si può vivere delle ore all'aria aperta e in maniera sicuramente salutare, è disponibile per tutti. Vedevo prima Montorio, sicuramente non abbiamo visto Montemagno, ma tutto il nostro Montalbano credo sia un'eccellenza che si presta in maniera magnifica alla realizzazione di questa gara e invito tutti coloro che vedranno queste immagini, tutti coloro che possiamo raggiungere, a venire a visitare questi luoghi e a godere delle eccellenze del nostro territorio. Valtteri, pochi secondi per descrivere il percorso che ormai, 39 edizioni, sicuramente l'abbiamo imparato a memoria, non è variato molto nel tempo, anche se prima in passato era un po' più lunga, ma si parte in pianura, due chilometri e poi subito una bella rampa e lì cominciamo a vedere già i paesaggi. Sì, dopo i primi due chilometri nel centro della città iniziamo a salire nella zona di Tizzana per poi riscendere nella zona di Ronchi Polonica, poi risaliamo su quello che è il Montalbano attraversando le frazioni di Tacinaia, Buriano, Montorio, Luciano, torniamo giù verso Quarrata, entriamo nel parco di Villa Lamagia e poi torniamo in pianura sull'arrivo della centrale via Montalbano. E questo è il percorso, intanto state vedendo tanti arrivi, vi do qualche indicazione, Mario Bendoni con la maglia del Montemurlo ha chiuso in 59-39 davanti ad Andrea Bracchi dei Bradi Piedimigliana e Giuseppe Quinzi della nuova Tertica Lastra che lo vedremo protagonista più avanti nella mezza maratona di Signa. Andrea Davini, Claudio Falasca, Giuliano Burchi sono stati i primi tre veterani e poi Rinaldo Bolognesi, Roberto Mei e Roberto Corradossi sono stati i primi tre argento. Norico Cenci come sempre si è imposto nella categoria oro per quanto riguarda la parte femminile, Allegra Masi davanti a Elaria Ramazzotti e Martira Banchelli e poi Nessantunes e Laura Migliori. Paola Pignanelli è stata la migliore delle veterane davanti ad Antonietta Schettino e Silvana De Pasquale. Eni Vittorini, Rosanna Battaglini e Sonia Santini sono state le prime tre argento. Queste sono le immagini che ci conducono verso la fine, poi vedremo anche le premiazioni Walter ancora a te per ricordare tanti premiati, ne hai citati circa 200 premiati e per trarre le conclusioni. Sono stati 204 premiati. Concludendo, tornando su Villa Lamagia vorrei ricordare che Villa Lamagia la prossima domenica ospita una gara, la settima edizione di In Cammino verso la Legalità, una corsa organizzata insieme al comune di Quarrata che è appunto, come dice il nome, in Cammino verso la Legalità è una corsa contro, che nega la violenza dei diritti, la violenza nega i diritti, il sottotitolo del titolo. Un percorso di 13,3 km, anche questo sulle colline del Monte Albano. Vorrei chiudere con una parentesi extra corsa, vorrei salutare un'amica che da ieri l'altro è venuto a mancare, ciao Valeria da parte della Polistica Fattori, sei sempre con noi. Grazie, grazie Walter, queste sono le immagini della premiazione, l'ultima cosa che vogliamo dire, vedo anche che c'è anche del buon vino per finire, mi auguro che non l'hanno bevuto coloro che guidavano, comunque che ne si siano limitati a tenere il tasso alcolemico sotto lo 05. Detto questo, volevo aggiungere che cosa ci aspetta qualcosa per il prossimo anno 2015 con la quarantesima edizione? Quarantesima edizione, sono in serbo delle sorprese, sono sorprese, teniamole come tali, ci stiamo già organizzando. Il periodo non è facile, sappiamo tutti, organizzare un qualcosa in più è sempre difficile, però ci stiamo muovendo, vediamo quello che si può fare. Vi state organizzando, qui le immagini di Isolina Mazzoni ci portano sui ricchi premi, vedremo anche il podio, il podio maschile, eccolo qua, l'assessore presente anche lui al podio in tutto, tra l'altro come ha detto che ha fatto. Assessore, quale ha fatto? La corta o la cortissima? No, ho fatto un po' più di 7 chilometri, il percorso era quello dei 7 chilometri, però un po' allungato. E quindi, eccole qua, Pignanelli, Schettino e poi salutiamo anche la Presidente o la Presidentessa Patrizia che era lì presente e anche voglio salutare, approfitto per salutare anche l'amico Patrizio che lo vorrei ogni tanto qua in TV, sempre dietro le quinte, ma anche lui, come dire, si nasconde sempre. Salutiamoli e ringraziamoli, visto che sono anima e cuore di questa società, sempre presenti e sempre pronti a tutto. Se posso aggiungere solo un attimo il ricordare nuovamente la corsa di domenica prossima, quella della legalità, perché il Comune di Quarrata si impegna anche in prima persona, oltre a questo, in cammino verso la legalità, con tutto un percorso che include i ragazzi delle scuole e proprio un percorso sulla legalità in senso generale. Quindi questo è uno dei primi appuntamenti, ce ne saranno altri che parlano di legalità organizzate dal Comune di Quarrata. Grazie, grazie anche all'assessore Riccardo Muglione, noi invece insieme a Fabio Fiaschi andiamo a sentire cosa da raccontarci Brux. Se benessere è anche per Toscana TV e anche per Ranes.it, in base ai canali dove ci seguite, siamo oggi a Migliarino, precisamente nella zona di Pisa, precisamente nel quartier generale della Brux Italia. Con noi abbiamo Marco Rocca, responsabile marketing dell'azienda e poi anche il direttore commerciale Marco Trimboli che è qui con noi. Due marchi oggi abbiamo. Allora, iniziamo da Marco Rocca che è qui con noi. La prima domanda che ti faccio siamo, diciamo così, tre o quattro mesi alla fine del 2014. Un anno per voi straordinario. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli spettatori. Sì, effettivamente non abbiamo problemi a confermare quello che hai appena detto. Stiamo per chiudere un anno record, soprattutto in Italia ma anche a livello globale. Un anno che ha visto Brux imporsi ancora di più su mercati importantissimi, come ad esempio quello nordamericano, ma soprattutto per quanto ci riguarda a confermare una crescita italiana che ci ha portati addirittura a raggiungere il nostro obiettivo 2014 in questo mese di settembre. Il vostro segreto, se si può dire segreto, qual è? Senza dubbio siamo partiti col piede giusto molti anni fa concentrandosi soprattutto su quello che sono i nostri rivenditori, su quelli che assieme a noi hanno portato alla situazione attuale, sono riusciti a portare il brand alla situazione attuale. Perciò concentrandosi sui rivenditori siamo riusciti a dare una giusta pressione alla nostra forza vendita, riuscendo in maniera graduale a dare anche più presenza per i nostri prodotti, per le nostre calzature, per il nostro abbigliamento presso i punti vendita. Le ultime iniziative che avete fatto, ricordiamo quella di Rovereto e poi quali saranno le prossime che magari sarete presenti da qui alla fine dell'anno? Nel 2014 abbiamo confermato quella che è la nostra strategia principale, ovvero quella di cercare di coprire anche quelle zone, quei confini tra il nostro sport e lo sport in generale, dove effettivamente siamo più carenti come presenza. Perciò le gare divertimento, tra virgolette, o meno, come la Strongman Run, come Color Run, come Run 530, ci sono state estremamente d'aiuto per confermare la nostra visibilità, per ampliare anzi la nostra visibilità, così come le presenze sulle classiche maratone. 2015, che anno sarà per voi? Sarà un anno ulteriormente impegnativo, ma anche senz'altro entusiasmante, perché ci attendono ulteriori progetti un po' fuori dalle righe. Stiamo per ricevere la visita del nuovo responsabile marketing europeo che si è appena insediato da qualche settimana nella nuova sede, a proposito, olandese, con il quale andremo a esaminare questi progetti. Perciò qualche novità, qualche sorpresa, sicuramente, e qualche conferma. Conferma come Strongman Run e come Color Run, che sono stati dei successi veramente importanti. Bene, allora andiamo all'altro Marco, il nostro direttore commerciale, che da qualche mese è giunto nella famiglia Brooks. Da quanti mesi sei Marco in Brooks? Sono entrato a maggio, a maggio 2014, quindi pochi mesi fa. Cosa dire, sono contentissimo. Questa è un'azienda che ha in sé, incorpora una vivacità incredibile. Direi che Brooks è sempre più run happy, da un punto di vista commerciale. Io credo che questa azienda abbia ancora tanto da esprimere. È un'azienda che fondamentalmente sta duplicando i propri fatturati di anno in anno. Confermiamo che anche per il 2015 abbiamo già chiuso una bellissima campagna vendite 2015, Spring Summer. Brooks continua questa politica legata al 100% al mondo del running. Non ci facciamo traviare, diciamo, da influenze che non rientrano all'interno di questa sfera. Quindi è un gioco che funziona. Allora, intanto quanti dipendenti adesso ci sono in Brooks Italia? E poi più o meno il fatturato, quanto almeno in percentuale, quanto vi ha aumentato nel 2014? Quanto vi aspettate che aumenti nel 2015? Allora, Brooks ha una struttura in continua crescita. Ad oggi siamo circa 15 persone. stiamo comunque crescendo molto e devo dire che tocchi un aspetto molto importante. Questa crescita deve essere strutturata da persone, da persone che rappresentano la forza di Brooks. Nel mondo running, e quindi quello che riguarda il nostro mercato, c'è da dire che c'è un trend estremamente positivo. Questo non è legato soltanto alle aziende, ma è legato al fatto che le persone sicuramente vogliono stare bene. Diciamo che quando ci sono problemi, forse rifugiarsi nello sport è un ottimo rimedio. Quindi io credo proprio questo. La gente fondamentalmente ha voglia di essere attiva. Si parla molto di benessere, non soltanto più di running. Quindi si stanno anche amplificando le possibilità. La comunità del fitness ormai e dei podisti, se vogliamo, si stanno in qualche modo fondendo in alcune manifestazioni che sono abbastanza evidenti. Per cui no, sono molto ottimista. Credo che anche altre aziende e anche altri settori potranno in qualche modo pian piano risollevarsi. Noi viviamo un momento felice, questo bisogna dirlo, non soltanto noi italiani, ma a livello mondiale il running sta continuando a dare ottimi risultati. Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni training consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi. Ho passato a trovarci nella nostra sede di Via Fra Giovanni e Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine. Un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta! Ripreso lo scorso 8 di ottobre, Firenze corre questa manifestazione dedicata proprio al podismo. Possiamo partire con le immagini di sottofondo, Piazza del Duomo a Firenze. Questa è la prima tappa, chiamiamola così, saranno oltre 30 le serate di mercoledì. A partire dalle ore 19 si parte proprio con questa manifestazione insieme a Universo Sport che darà la sede, anche lo scorso anno lo ha fatto, la sede logistica proprio come spogliatoio, come deposito di borse in Piazza del Duomo. Come vedete la partecipazione già dalla prima tappa è stata molto efficace. Salutiamo anche l'amico Alessandro Masti insieme a Radio Soscana che sta animando un po' insieme in questo riscaldamento. 19.30 inizia il riscaldamento, 19.45 le prime partenze e si corre da 5 al chilometro a 6.30, ogni 30 secondi, a 30 secondi di ritmo. Quindi 5, 5 e 30, 6 e 6 e 30 con dei pacemaker che faranno l'andatura. A coda di tutto la Nordic Walking e poi ancora gli amici che camminano, i camminatori, camminata sportiva e poi ancora dietro coloro che insieme al proprio animale domestico, cani in modo particolare, fanno la loro dog walking proprio insieme all'amico a quattro zampe. Ne avremo ancora per, come detto precedentemente, per tanti mercoledì, a parte una breve pausa nasalizia, fino ad arrivare al 10 di giugno dove sarà la giornata conclusiva. Ristoro al termine per tutti i partecipanti, vi ricordo il sito firenzecorrere.it per andare a vedere tutte le informazioni del caso, quindi avrete modo di trascorrere in compagnia, di andare a dei ritmi predefiniti e eventualmente se non siete esperti di corsa imparare qualche novità, imparare a correre e così via. Questa manifestazione che vede la partecipazione, l'iscrizione di tanti podisti, oltre mille ma probabilmente sono aumentati anche con il tempo, notizie non ufficiali, quindi andate a vedere sul sito firenzecorrere tutte quelle che sono pure partecipate, potete partecipare a tutte le edizioni scrivendovi con una sorta, tra virgolette lo dico, di abbonamento, oppure potete partecipare una tantum con una piccola quota di scopo. Abbiamo scritto anche delle immagini dei camminatori che stanno partendo adesso, tutti con il giubbottino arancio, proprio anche per farsi vedere, per animare queste le vie del centro cittadino di Firenze, vi ricordo il percorso è di 8 km, approfitto anche per ricordare dove saremo le prossime domeniche con Calenzano, il trofeo atletica Calenzano, una semicompetitiva di 13 km e una non competitiva di 6,5 km e poi saremo a Castelnuovo Berardenga per una grande edizione, ecco Maratona del Chianti, l'ottava edizione, i percorsi sono di 42 km, la Maratona è poi ancora 18 e 11 con la manifestazione standard e la manifestazione del Nordic Walking sempre di 11 km e poi ancora Valenzatico, ritorniamo a Quarrata con il 37esimo trofeo 5 Frantoi, questa competitiva di 15 km e 600 metri, anche questa su un altro versante ma sempre sulle colline del Montalbano per essere così in tema. Il 26 di ottobre invece saremo a Lucca per la sesta edizione della Maratona Città di Lucca, anche qui 42 km e 195 metri manifestazione internazionale e poi ancora alla 16esima edizione della Maratona Città di Arezzo, oltre che al trofeo Le Panche, 37esima edizione con un percorso di 13 km e 500 metri e una non competitiva di 7 km. Noi invece adesso andiamo con le immagini, immagini che ci portano a Signa dove salutiamo l'amico Piero Giacomelli su una panchina che ci sta salutando ma poi saranno i podisti a salutare lui con le tante foto, le tante foto che ci regala e vi regala tutte le domeniche in cambio proprio di un piccolo contributo di solidarietà. Stato Libero dei Renai o Parco dei Renai che dir si voglia per l'edizione numero 29 della Demi Marathon, la competitiva 21.097 quindi in mezzo a Maratona o anche un'altra competitiva con un percorso ridotto di circa 11 km. Enrico Drovandi, factotum dell'Atletica Signa ma anche della Firenze Marathon che ci racconta un po' qualcosa su questa edizione numero 29. Enrico buonasera. Buonasera a tutti, contare sarebbe santo. È la 29esima edizione con circa 750 partenti tra la 21 e la 11 km, un bel posto, tanto pubblico, devo ringraziare tante persone, è stata una bella giornata di sport, tanto sole, anche molto caldo, la manifestazione è andata tutto bene. Molto caldo la temperatura effettivamente quest'ottobre ci ha regalato a parte un po' di piogge negli ultimi giorni ma che temperature abbastanza alte. A Signa se ricordo bene una temperatura così poche volte si è vista, vero Enrico? Ma negli ultimi anni poche volte, quest'anno era circa 27-28 gradi quando arrivavano i primi della gara, che è una temperatura altissima per otto ore. I partecipanti come sempre, anche se ormai le mezze maratone stanno diventando tante, vi ricordo l'abbiamo presentata giovedì scorso in contemporanea all'Ammari si correva un'altra mezza maratona, quella del Campanone, e quindi come è andata Enrico per quanto riguarda i partecipanti e tutto il resto? I partecipanti alla mezza sono stati 500 partenti e arrivati 4,75, a quell'altra un 150 nella competitiva di 11 km e un 150 nella non competitiva. Quindi siamo a un totale di circa 800 arrivati, 800 che hanno concluso il percorso. Bene, andiamo accanto a lui con Alessandro Giannelli che anche lui è atletica signa. Cosa ci racconta Alessandro? Buonasera, siamo arrivati alla 29esima edizione di questa gloriosa manifestazione, dico gloriosa per tutti i versi, per tutte le volte che si è svolta, per la qualità e la quantità di atleti che si sono sempre presentati. È stata una bella fatica organizzativa, ma gratificante. Alla fine siamo soddisfatti, come diceva Enrico, per il numero di partecipanti, per la bella giornata che ci ha benedetto, diciamo. E poi insomma siamo lieti di vedere che la nostra squadra è ben collaudata anche sul piano organizzativo. Il lavoro fila bene e alla fine non ci sono stati problemi. Siamo contenti veramente. Speriamo di ripetere questa bella esperienza, soprattutto il prossimo anno quando avremo il trentesimo, che è un compleanno importante che dovrebbe stimolarci a fare bene come questa volta, anche di più, di meglio. Come è stato giustamente sottolineato, esiste una concorrenza. Ora ci sono tante gare, tante mezze maratone e quindi un buon risultato per noi è tanto più soddisfacente, tanto più gratificante. Questa concorrenza rappresenta qualcosa di positivo perché dal punto di vista dell'atleta dico che è bene se ci sono tante gare. Dal punto di vista dell'organizzatore dico che è una bella sfida, una grande sfida che per ora siamo riusciti a raccogliere e a superare bene. Speriamo di poterlo fare anche in futuro, siamo lesi di poterlo fare. E questo intanto siamo sul percorso con gli atleti che stanno sfilando con le immagini realizzate da Bruno Nencetti. Enrico, qua abbiamo cambiato negli anni un po' la zona della partenza, la zona degli arrivi, una volta si partiva dallo stadio, adesso la base logistica è tutta al Parco dei Renai, negli ultimi anni si parte da centro strada, quindi una partenza tranquilla, molto spaziosa e poi si arriva all'interno dello scenario fantastico, è questo parco che Signa ci offre. Cosa ci racconti proprio in base a questo percorso che ormai avete sperimentato e come dire, è il percorso storico? Sì, perché partivamo dallo stadio, però è diventato sempre più difficile quando si rientrava con la gara, perché dovevamo attraversare la statale, era difficoltoso per noi a organizzare, per gli atleti e per quelli che stavano sulla strada. Sicché quattro anni fa ci venne l'idea di provare a farla nel Parco dei Renai e le prime due volte siamo partiti di dentro al Parco, però era bruttissimo perché dopo 100 metri c'era un punticino che stringeva la massa degli atleti, allora con l'amministrazione, con i vigili urbani e l'amministrazione comunale, devo chiedere permessi per chiudere un'ora alla via arte della faglia, che quando è parta non hanno due chilometri, tutto diritti e una bella strada larga, se che hanno tempo di allargarsi è molto meglio, l'arrivo però si fa sempre dentro il Parco, perché giustamente la società delle Renai e ci offre il Parco vuole l'arrivo lì dentro, se no… L'arrivo lo gestiamo piuttosto bene, lo gestiamo, non arrivano tutti insieme. Non arrivano tutti insieme, poi c'è tanto spazio per cambiarsi, per fare tutto, perché è immenso il Parco, sicché è una cosa bellissima. Diciamo la parte sfruttata è solo una piccola parte che è il primo settore. È uno dei due settori cattivi e un pezzettino se ne sfrutta, perché se no ci si perderebbe dentro. Lì in questo Parco, come sapete a maggio c'è stato correre nel fango, lì hanno corso veramente tutto dentro il Parco. La Mad Run o l'Inferno Run per esattezza? È il 90% di una gara verrà rifatta sempre il primo weekend di maggio, che siamo coinvolti un po' noi come organizzazione. Devo dire altre due cose. Un altro anno è il trentesimo e forse ci saranno grosse novità, già in mente con l'amministrazione comunale, con i vicini urbani. Sto già lavorando, ora loro non avevano ancora detto, ma ho cominciato a lavorare già prima io, perché io abito un posto e comandano un altro. Io abito in un comune e il comune non mi viene da mai. Oggi sono andato in un comune e mi hanno detto, ma andò l'abita a lei. Abiti nel comune accanto, lo possiamo dire, lo possiamo. C'è l'Arno e ci divido. Io abito lì, oggi sono andato in un comune e mi hanno detto, ma andò l'abita a lei, se non c'è mai. Io abito nel comune di Lastra e ho fatto tutto. Io ho cominciato a fare l'atletica con bambini nel 76. Io ho girato l'Italia per una decina d'anni con 100-150 ragazzi. Io ho avuto tante soddisfazioni a livello giovanile, insieme agli allievi. Ho fatto grosse finali sia a Milano all'Arena, sia a Roma allo Stadio Olimpico. Ho avuto gli atleti sul barco. L'ultima gara che ho fatto fuori ho fatto con quattro ragazze della marcia e anche lì, ai tesi italiani, siamo arrivati secondi con una stessa e terzi società. Enrico, qui stiamo a Signa, però te sei uno dei factotum, uno dei pilastri portanti della Firenze Marathon. La Firenze Marathon, intanto vi ricordo, ha aperto anche le iscrizioni per la Ginkie Family Run, quindi potete già iscrivervi sul sito firenzemarathon.it o comunque andare a vedere tutte le informazioni che vi portano ai punti di iscrizione. Come sta andando intanto la Firenze Marathon? La Firenze Marathon sta andando benissimo, siamo in media con le iscrizioni degli altri anni, c'è qualcosina meno rispetto a anno, ma perché anno c'è il centenario, il trentesimo è una cosa tutta diversa. Comunque siamo in media con le iscrizioni, pensare ancora a manco un mese e mezzo di chiudere le iscrizioni. Quindi ne arriveranno tanti, arriveranno tanti ancora, siamo più o meno… Io penso a stati su 10.500, 10.600, insomma… Si sfiorerà a quota 11.000, diciamo, come è più o meno lo scorso anno. Sì, in grosso modo così. Intanto le immagini ci portano sui primi, avete visto intanto Marco Parigi che stava comandando, ma lui ha corso la gara di 11 km, mentre Quincy stava transitando, è transitato da poco proprio con la maglia dell'Atletica Lastra, che sarà poi lui, ve lo posso svelare, tanto lo sapete già probabilmente, il vincitore della manifestazione. Poi andremo a vedere più nel dettaglio le classifiche. Torniamo invece da Alessandro. Alessandro, cos'altro aggiungere vedendo un po' di passaggi, se ti è venuto voglia anche a te di correre, se hai corso, che non lo so questo. Io sì, ho corso, infatti mi sono visto passare poco fa. Anche se la mia prestazione non è stata brillantissima, ma in fondo non era questo lo scopo della manifestazione, insomma. Non solo ho corso, ho collaborato per quanto mi è riuscito attivamente all'organizzazione, anzi io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, appartenenti alla squadra, ma anche non appartenenti, che hanno voluto dare un loro contributo, con la loro opera. Insomma, io sono letto di aver partecipato e colgo l'occasione di ringraziare tutti coloro che fanno parte dell'Atletica Signa da sempre e che hanno reso possibile questa manifestazione, hanno reso possibile tutto quello che ha fatto l'Atletica Signa e che l'ha resa attraente anche per me, perché anch'io sono in fondo un forestiero, cioè sono chi abito a Scandici, ma sono entrato a Signa e qui ho trovato la mia patria sportiva, diciamo. Hai trovato pane per i tuoi denti, quali saranno i prossimi anche tuoi appuntamenti, Alessandro? Beh, io mi troverò domenica a Montelupo con altri compagni di squadra e poi vedremo. A proposito di Montelupo, domenica stra Montelupo, nona edizione, vi ricordo un errore che è apparso sulla rivista Runners e Benessere, la partenza, quest'anno la partenza è cambiata, si parte, vi ricordo, in località Turbone, quindi non si parte come prima da una delle piazze centrali di Montelupo, ma si parte, ricordate bene, località Turbone con ritrovo alle ore 8 e la partenza alle ore 9. Enrico, vediamo intanto un po' di atleti, ho visto molte maglie dell'Atleti Casigna, mentre a Quarrata erano tutti impegnati sul percorso, te li avevano andati a correre così? Io li ho fatti lavorare anche diversi degli e conossi, no, 40 minuti prima della partenza, hanno lavorato tutta la settimana. E' schiavizzati un po'. Considerando che ci saranno 150 tesserati, sicché c'erano quelli a lavorare. Poi io, come tu sai, mi involgo l'associazione, la pubblica assistenza, dove noi abbiamo la base, la nostra sede, da sempre, e lì mi viene un gruppo di una ventina di ragazzi sul percorso, essendo un circuito con una trentina di persone, si copre tutto. A San Mauro c'è la misericordia, tutti gli anni la protezione civile della misericordia ci copre il posto di San Mauro, il quale devo ringraziare perché tutti gli anni vengano, e come devo ringraziare i miei collaboratori, che io fu parte della protezione civile dai 76, e sono stato a agire anche per quella, che sicché mi rimane più atleti per fargli correre, loro devono pensare solamente alle iscrizioni e organizzare i premi e tutti, il rimanente, la logistica la organizzo tutta io da sempre, con la collaborazione di loro giustamente, se c'è da andare a fare una cosa vengano anche loro. E quindi, come dire, riesci a tenere tutto sotto controllo, infatti nessuno, mi sembra, incroci tutti i presidiati e poi tutto il percorso, logistica, premiazioni in tempo reale e così via, grazie anche agli amici che ci hanno dato mano per avere anche i risultati e le classifiche in tempo reale. Ricordo anche il trittico, il trittico del trofeo Vivi la Fratres, con il trofeo Vivi la Fratres, il trofeo Catarsi e con le alti, e la 29esima Demi Marathon, che era proprio questa. Enrico, ci lo ricordiamo chi ha vinto il trofeo? Il Maiano, se non mi sbaglio. Ha vinto il Maiano, le fanche dovrebbero essere seconda e la usone a terza. Il trittico si svolge a circolo con le alti, il trentesimo mi sembra sia di più, dove era sceduto il presidente di circolo e venuto fuori a fare sto trittico. E la nostra gara, il trittico si svolge, chi porta in queste gare 15 a 13, sia nella prima, ne può portare anche di più, le cinque società che arrivano a portare e vengono premiate. Se ne è premiate tre perché quell'altro non abbiamo portato nessuno alle gare prima. Ok. Mentre io vi ricordo gli arrivi per quanto riguarda la parte competitiva, ma del percorso di 11 km, quello più corto con la vittoria di Marco Parigi davanti a Del Fiorino, con Daniele Susini in seconda posizione, Livorno Team Running e Andrea Dabizi dell'Atletica Signa, mentre per la parte femminile si è imposta alle gramati Del Fiorino davanti alla compagna di squadra Lucia Tiberi e ancora Luciana Resu, che è la quarta classificata, ma ancora il Fiorino davanti per la terza posizione, ma la prima posizione delle veterane, con Antonella Sassi. Quindi queste le classifiche per quanto riguarda la parte competitiva, ma di 11 km, mentre vediamo ancora gli atleti che si stanno portando verso l'arrivo del Parco dei Renai. Approfitto ancora per ricordarvi a Pisa Marathon il prossimo dicembre con il 30 ottobre la scadenza della tariffa agevolata. Quindi il 30 ottobre terminerà la tariffa agevolata per quanto riguarda la Pisa Marathon e anche una lieta sorpresa perché sarà presente, anche se non in gara per quanto riguarda la Maratona, ma come testimonian della Lilt, sarà presente. Niente poco di meno che Valeria Stranio, che ormai conoscete tutti molto bene e che quest'anno ci ha regalato un'altra medaglia, medaglia d'argento, insieme alla medaglia d'oro di Daniele Meucci. Questi sono gli arrivi invece con Giuseppe Quinzi, nuova Atletica Lastra, che ha chiuso in 1.15.48 davanti a Siliano Antonini, ormai anche lui uno dei pilastri dell'Atletica Signa con 1.16.42 e poi Mattias Kindel, che è un ragazzo che lavora a Firenze, ma viene da Berlino, lui è tedesco, ha chiuso in 1.17.37. Leonardo Ciulli, anche lui dell'Atletica Signa, Abdullamed Lablaida del Maiano, sono stati i primi 5 a tagliare il traguardo. Poi ancora vedremo anche le altre classifiche, anche della parte femminile, mentre ritorno con Enrico per trarre un po' di conclusione, se abbiamo qualche ringraziamento. Sì, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, il Presidente Dottor Marzzi, il Parco Renai, i ragazzi della protezione civile, sia di Signa che di San Mauro, i vigili urbani e poi tutti gli sponsor, non nomino nessuno, se no qualcuno si lascia dietro e si arrabbia. Assolutamente. Bene, approfitto anche per ricordare, qui vediamo l'arrivo di Angelin Niran Sambimana, che è stata la seconda a tagliare il traguardo, è chiuso in 1.23.13. La prima è stata Anna Spagnoli, recente vincitrice della Maratona del Mugello, con la maglia dell'Atletica Leggera Futura, che è chiuso in 1.23. Chiara Giangrandi è stata la terza classificata con la maglia del gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Ancora arrivi nel Parco dei Renai, Alessandro, anche per te qualche notizia per chiudere in bellezza? Beh, più che una notizia, voglio dire che saluto tutti gli amici atleti e naturalmente vi aspettiamo per il trentesimo della Demi Marathon nel 2015 a Signa. Vi saluto tutti e vi aspettiamo. E il trentesimo, Enrico, non è che ci puoi svelare qualcosa di cosa accadrà nel trentesimo per caso? O è top secret? No, top secret non è. Sicuramente qualcosa di nuovo c'è. Considerando che quest'anno non si è premiato sulla mezza a 230 atleti e una settantina in quella ad 11 km. Può dare se si premi anche più gente, può dare se si faccia la premiazione diversa, ci sono tante cose. Sai che io non le tiro fuori fino a quando non sono sicuro. Beh, te tu mi conosci bene come sono. Però le pensi, eh? Le penso. Poi sapendo che poi io, mentre poi fa altre cose, penso, è lì, no? Avendo in mano, lo sai, quasi tutta la logistia della Marathon di Firenze, mentre qui il lavoro può pensare a altre cose. Salutiamo anche Barbara Dore che è arrivata in questo momento, lei che tra l'altro era anche parte integrante della manifestazione in un certo senso e ci continuiamo a vedere gli arrivi di questa manifestazione. Io intanto vi ricordo che domenica prossima ritorneremo come al solito con il nostro appuntamento con Runners e Benessere alle 22.30 sul canale 194 di Toscana TV News & Sport per vederci altri filmati insieme alla compagnia di Fabio Fiaschi e non solo, le riprese in modo particolare di Linda Betti che ci tiene compagnia anche lei in tante manifestazioni. Con queste immagini vi do l'appuntamento invece per giovedì prossimo saremo ancora insieme per commentare tante altre manifestazioni e non mi resta che dare la buonanotte a tutti voi e buon proseguimento con Toscana TV. Grazie a tutti!